In questo senso voglio ribadire ancora una volta la ferma condanna per quanto avvenuto nei giorni scorsi nell'Aula della Camera dei Deputati. Questo grave episodio mi ha molto amareggiato e deluso. Chi rappresenta le istituzioni deve comportarsi in maniera consona. È una responsabilità che abbiamo soprattutto nei confronti delle nuove generazioni. Le iniziative illustrate nella relazione 2023 testimoniano l'importanza di un maggiore coinvolgimento dei minori sui temi a loro più vicini. La relazione annuale delinea il quadro attuale e pone l'attenzione su alcuni profili che chiamano direttamente in causa il Parlamento e le istituzioni. Mi riferisco in particolare alle misure necessarie per superare le inaccettabili disuguaglianze ancora presenti nel Paese, che impediscono ai minori di godere tutti delle stesse opportunità.